Non passa ormai settimana che uno dei due gruppi di imprenditori che si fronteggiano nella partita per lo shopping center nella zona della stazione delle autocorriere a Bolzano non organizzino un evento. Venerdì scorso era toccato René Benco a Palazzo Menz, ieri dibattito pubblico all'Eurac. Nell'auditorium la cordata composta da 37 imprenditori e guidata da Georg Oberhoch ha voluto approfondire il progetto targato Emozioni Alto Adige alla presenza dell'architetto che se ne è occupato. Boris Podrecca arriva a dito che la sua idea, che ruota ovviamente attorno alla realizzazione di un centro commerciale, è pienamente compatibile con il ridisegno dell'adiacente areale ferroviario da lui stesso curato, aggiungendo che il verde pubblico della zona non verrà privatizzato ma lasciato a completa disposizione della cittadinanza. Podrecca ha inoltre sottolineato che i nuovi manufatti avranno la funzione di arricchire un'area che dal punto di vista architettonico ora non convince. Non si può fare un progetto contro la città, non si può fare contro la qualità di vivere insieme in un luogo così pregiato, non è vero che Bolzano è una città morta, è la città che si qualifica come una delle più qualitative in Italia e allora questo progetto tentiamo di farlo e tentiamo di farlo per il bene della città. È stata anche l'occasione per chiedere all'architetto Podrecca cosa ne pensa del progetto Benko curato dal suo amico architetto e concorrente David Ciperfi. Sicuramente è un star, un bravo ragazzo così, il progetto si fa a Berlino da un gruppo con lui e io veramente non voglio come dire far questo challenge in modo io sono più bravo, lui è meno bravo, l'altro è più bravo, queste cose devo dirle alla città. Io faccio il mio mestiere, cerco di farlo il meglio possibile, ho fatto vedere quello che so fare con il progetto che ho vinto a Bolzano e più di così non posso fare, o mi credete o non mi credete, sono i politici a dover decidere queste cose.